Il rosso di Mazzara del Vallo con caviale e taglio zafferano per fare l'oro. Questo? Questo è il caviale rosso. Il caviale rosso di lomo. Spieghi come l'avete preparato il piatto proprio. Quindi avete? Abbiamo rosolato di tappe di Mazzara con un'oro. No, non si fa in venti su. Il piatto è la mia parte. Ma no, l'impatto. Ma che si ci mette a fare? C'è un'oro. C'è un'oro. C'è un'oro.